ciao a tutti nel video di oggi vi mostriamo una 500 l 13 multijet 95 cavalli euro 6 versione l'ange quindi quella un po più accessoriata per intenderci faccio notare alcune finiture molto di pregio mascherina cromata tutte le varie cromature anche nelle parti della macchina cerchiamo in lega più bello per versione l'ange vettura euro 6 configurazione fatta da noi ci siamo abbiamo aggiunto qualche option interessante al nostro viso tipo il tetto panoramico dopo ve lo faccio vedere aperto abbiamo scelto questa colorazione che è quella un po più accattivante per questo tipo di vettura quindi il verde toscana notare il display tft quindi con cristalli liquidi abbiamo una versione l'ange anche display grosso touchscreen sette pollici quindi più grande di quello della versione classica tutto sempre in touch quindi abbiamo uconnect abbiamo tutte le varie funzioni dal vivo a voce la radio bluetooth vedete qua le impostazioni generali uconne del computer di bordo qualsiasi altra cosa ok quindi libbi anteriori start e stop climatizzatore automatico bizona antipatinamento presa aus presa usb volante multifunzione con bluetooth cruise control comandi sensore luce sensore pioggia vedete che la macchina ha percorso i classici chilometri che fanno solo sui rulli attenzione che non è un chilometro zero ma è proprio un'auto nuova quindi ve la vendiamo come prima in matricolazione ok non come chilometro zero perciò dal giorno in cui la acquistate è come un'auto nuova a tutti gli effetti vi faccio vedere una chicca secondo me eccezionale tetto apribile panoramico fino in fondo automatico cioè pardon tetto panoramico non apribile crea una superficie vetrata tra questo e cristalli enorme ripeto colore uno dei più belli verde toscana mi spiace che all'interno renda molto poco un'auto che vi invito a venire a vedere di persona per averne conto in maniera più accurata abbiamo sensori parcheggio quindi libbi anteriori il vano a doppio a doppio carico ok quindi questo pianale si può abbassare fino in fondo tenere la metà tenere in alto i sedili ribaltabili tutti singolarmente o in trio quindi 60 40 il colore ripeto verde toscana non rende invidio non riusciamo a farlo rendere dovete vederlo di persona quindi auto nuova prezzo di un usato dal momento in cui l'acquistate tutti i dettagli li trovate anche sul nostro sito autosonebrisadelli.it sulla scheda tecnica della macchina per un test drive o per qualsiasi altra cosa non esitate a contattarci vi aspettiamo e grazie dell'attenzione faccio un'occhiata sul tetto comunque ripeto tutte le foto nella scheda tecnica sul nostro sito grazie grazie